La France est en guerre. È guerra, è l'inizio della tempesta, ma come dobbiamo difenderci? Attenzione alle parole, la guerra, questa è guerra. La guerra a Parigi, tanti attentati, tanti morti. Noi non abbiamo più il coraggio delle nostre identità, della nostra essere cristiani. Non è che da noi in Italia non si siano trovati e non ci siano in circolazione tipi pericolosi. Questo è il tema a questo punto, cosa succede da noi, cosa può avvenire in Italia. Ci siamo, anche noi di chi l'ha visto. Abbiamo deciso di proporvi una sorta di viaggio nelle radici storiche di eventi così drammatici. The show must go on. Condanna i fatti di Parigi. Noi condanniamo e scendiamo in piazza. Voi dove siete? Nelle televisioni a creare una guerra fra le regioni. Ci sono 25 milioni di musulmani in Russia ci sono. Che cosa stai dicendo? Faccio gol! No, scusate! Va, va, va! Passua, but you've seen me. Qui comando io. O le va bene. Sì, sì, se ne va. Ok, Elisabeth, va bene. Va bene. Sì, se ne va. Sì, se ne va. Bravo. Abbiamo anche pensato onestamente che sarebbe stato più comodo forse non andare in onda. ma credo che invece sia importante perché credo che sia importante soprattutto esserci.